Una notte speciale per una combinazione unica di archeologia, musica ed arte. Martedì 6 agosto, a partire dalle 20.30 fino alle 23.30, Villa Arbusto aprirà i suoi spazi per una notte al museo. Iniziativa organizzata dal comune di Lacquameno, il Museo archeologico di Pitecusa e l'associazione culturale Jazz per proporre un nuovo modo di fruizione del patrimonio culturale pubblico, attraverso un'offerta di intrattenimento che consentirà ai visitatori di scoprire il polo museale di Lacquameno sotto una veste diversa, con l'aiuto del fascino della notte e di una performance di musica jazz d'alto livello come quella di Elio Coppola Trio e la partecipazione davvero straordinaria del sassofonista Max Ionata. Nella magia delle notti d'estate, gli spazi museali diventano teatro di incontri ed appuntamenti culturali, trasformandosi in luoghi vivi dove il visitatore sperimenta in prima persona le emozioni legate alla storia e alla fascinazione di un patrimonio archeologico come quello di Pitecusa, ma anche della musica di alta qualità e dell'arte multiforme dal respiro internazionale di Lorenzo Mattottile, cui opere in esposizione negli ambienti di Villa Gingerò potranno eccezionalmente essere ammirate al di là degli abituali orari di ingresso. Già dalle ore 20 e 30 dunque sarà possibile accedere al museo dedicato all'antica Pitecusai, insediamento scoperto dall'archeologo Giorgio Buchner, che riveste un ruolo centrale nella zona della colonizzazione greca, come punto di approdo e di transito lungo le rotte che da oriente ad occidente collegavano le sfonde opposte del Mediterraneo. Alle 21 e 30, poi tra i giardini e le terrazze di Villa Arbusto con vista sul Golfo di Napoli, il grande jazz di Elio Coppola che con il suo classico trio coinvolgerà il pubblico con trascinanti momenti di assieme e spunti solistici. La partecipazione al concerto live e la visita alla mostra Mattotti sono gratuite. Il Museo archeologico e Villa Gingerò saranno aperti anche la serata del 7 luglio in occasione del concerto pianistico di Dina Ivanova, che chiude la rassegna musicale Ischia Classica Festival.